Il discorso quindi sono ancora troppo emozionato, volevo dirvi che ancora siamo pronti a governare, insomma questa è l'unica cosa che voglio dire, la regione, ormai la regione deve tornare in mano i cittadini, quindi basta Polverini, basta Fiorito, tutta questa gente ormai non ha più senso di esistere, quindi tra poco, tra poco garcheremo quella soglia, entriamo in Parlamento, aspettiamo solo quanto manca, 48 ore, quindi aspettiamo solo queste poche che ora ci separano dalla nostra rivoluzione, grazie, grazie, basta, troppo emozionato. Roma è pronta al voto? Sì! Grandi! Tutti a casa, devono tornare, tutti a casa, ciao! Tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa! Tutti a casa, tutti a casa!